Ciao, mi chiamo Ana e oggi ti dirò tutto ciò che devi sapere su Lipogenetic prima di acquistare il prodotto. Ho anche due dichiarazioni di non responsabilità molto importanti, quindi per favore presta molta attenzione a quello che ho da dire. La prima cosa che devi sapere su Lipogenetic è, fai attenzione su quale sito web acquisti Lipogenetic, poiché Lipogenetic è venduto solo sul sito ufficiale. Per aiutarti, ho lasciato il link al sito ufficiale qui sotto nella descrizione di questo video. Lipogenetic è composto solo da ingredienti naturali e si compone di due prodotti, notte e giorno, da assumere al mattino e alla sera. Nutrizionisti e nutrizionisti professionisti in Europa hanno esaminato attentamente come funziona Lipogenetic. Sono impressionati dalla sua azione e dagli effetti positivi che porta. Le gocce agiscono come un potente agente brucia grassi durante il giorno. Ti danno energia, sopprimono le voglie dell'appetito e ti aiutano a fare meglio fisicamente e mentalmente. La variazione notturna del prodotto migliora la qualità del sonno e potenzia i processi digestivi. La composizione naturale consiste solo di ingredienti naturali. Lipogenetic è efficace al 95% nel bloccare l'assorbimento dei carboidrati da parte del corpo. Ha un certificato di qualità che lo dimostra. Ad essere onesti, non pensavo che avrebbe funzionato, ma dopo aver letto così tanti rapporti positivi, ho deciso di rischiare e ho perso 8 chili. Questo è un prodotto straordinario. Lo consiglio a tutti. Il mio consiglio, aiuta il tuo corpo a perdere quei chili in più e inizia a migliorare la qualità della tua vita oggi. Lascia il tuo nome e numero di telefono sul modulo del sito ufficiale che ho lasciato nella descrizione e il loro team si metterà in contatto. Ricevi Genetic Lipo in pochi giorni in un pacchetto molto discreto.